Cristian Fanesi, maggiori investimenti nel settore dell'edilizia scolastica per il prossimo quinquennio se sarà eletto sindaco? Sì, sarà importante investire su un fondo straordinario per la manutenzione delle scuole. Abbiamo fatto tanto in questi anni, abbiamo sistemato le tre principali scuole medie di Fano, la Nuti, la Gandiglio i cui lavori sono in corsi e la Padalino dove abbiamo sistemato il tetto, abbattuto le barriere architettoniche e fatto insomma dei lavori di sistemazione per rendere questa più accessibile. Però noi abbiamo 49 edifici comunali adibiti a scuole e serve un fondo pluriennale, 500.000 euro all'anno, in maniera tale che l'ufficio tecnico possa programmare meglio e in maniera più corretta anche nel tempo degli interventi adeguati per sistemare tutti i 49 edifici scolastici a cui teniamo tantissimo. Per quanto riguarda i contenuti invece è chiara la nostra proposta, tre asili nido sono in costruzione e dunque è una scelta politica che noi rivendichiamo, lo stiamo costruendo nel 2026, il time schedule del PNRR ci dice che questi asili saranno pronti, dovremo assumere il personale perché è un personale formato, un personale direttamente dipendente.